Francesco Savoretti Cercherò di solo tanti quindi devo ringraziarli uno ad uno e me li sono segnalati altrimenti li dimentico Inizio il ringraziamento e un applauso a Massimo Ottoni che ci ha regalato il suo primo video E intanto richiamo sul palco i ragazzi della quinta IPMM dell'istituto Volta Chiamo Kelmet, Lucai, chiamo Alberto Madori, chiamo Yonot Gabor, Dimitro Pavel e Wassin Gerbi Se ci sono ancora, se ci sono scappati, con calma ritorneranno Ragazzi venite non siate timidi Intanto che arrivano i ragazzi richiamo sul palco perché questo applauso è per tutti Marco Florio, Katia Migliori, Cleo Caldenzi Richiamo il dolcissimo coro in dolce attesa della Casa Tonda Lucia Morelli, Chiara Nigra, Elena Gilberti, Mone Vagnini, Elena Magagnini Valjeanen Melù e Valentina Carbonari, Giulia Rossi con la guida spettacolare di Elisa Ridolfi e la piccola Agata Io ringrazio e chiamo sul palco se la voglia di essere l'energia se volete la grande immensa voce, una montagna Carla Fucci Anissa Goisi Anissa Goisi Siamo sul palco Marina Varniesi, l'assessore Non solo un'assessore ma una donna, un'amica Marina E chiamo sul palco anche, se c'è, Roberta Biaggiarelli Le due donne con cui questo progetto è nato nonostante le difficoltà e con una grande voglia di fare condivisione di fare il bene Ecco la riscata Marina Io sono Marina e sono di Fano e sono una piccola parte di questo universo che è stato rappresentato su questo